Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati con la seconda sfida Santo Remix vs Iscritti Oggi lo sfidante è BetTimeHD che saluto tantissimo Che ovviamente giocherà ma poi vedrà il video sul canale Riuscirà a sconfiggermi? Vedremo Ricordo io non sono una scima, non sono bravo quindi me la tiro un po' perché è una sfida Però partiamo subito e vediamo come andrà Ok si inizia, attenzione Manchester United Juventus Perfetto, attenzione qua un quadrato Vediamo che giochiamo all'Oltrefford a mezzogiorno praticamente E sembra abbastanza improbabile una partita del genere a mezzogiorno Tranne un amichevole Allora vediamo che Bet fa girare benissimo il pallone Vediamo come ci va a finire oggi, vediamo come ci va a finire Bellissimo, va Ibra, va Ibra E perde il pallone, se non sbaglio era Barzai e Bonucci forse Facciamo girare la palla La prima volta che uso il Manchester United Chiude molto bene gli spazi Bed Chiude molto bene gli spazi Ibra Fa girare molto bene il pallone Santore Mix No, c'è lo spazio Palla dentro, attenzione Mata, Mata 1-0 1-0 1-0 One Mata Manchester United 1, Juventus 0 Mi spiace Bed ma mi ha lasciato uno spazio grande quando una casa al centro Troppo invitante per lasciarlo Incustodito Tratto, Mata, assomiglia a Romani 1-0 Adesso vedremo la reazione di Bettaim Palà sulla destra, Dani Alves One quadrato che è velocissimo ragazzi, è una bomba Man mano che faccio le partite E che cavolo, sono riuscito Grande Attenzione, attenzione ragazzi Giriamo, è Bed la sallunga Bed la sallunga mi sa Bed la sallunga Punizionissima Punizionissima su Depay Allora qua giriamo Speriamo che non ci ammazza nessuno Memphis Depay Ancora, questo ve lo consiglio pure per il campionato Io praticamente faccio sfide e consigli per il campionato per la carriera Allora Depay, non c'è nessuno 1-2 Ancora Depay Provate ad entrare in aria Grandissimo Grandissimo Ci prova, palla al centro Attenzione Si salva Bed Incredibile Riparte Gonzalo Higuain Vaer Pipita Pipita detto in Argentino Attenzione, attenzione Vai De Gea spazza Bravissimo Palla per Ibra Ibra che sovrasta Chiuso alla grande da Bed Uh ci prova Ci prova Fa bene, fa bene Provate sempre dalla distanza Perché non si sa mai Una respinda corta Qua Pogba Non c'è nessuno Eh, non si muove Devo dire che fa un ottimo giro palla Bed Eh, ogni tanto lagga Ogni tanto lagga Posizione regolare Posizione regolare Mamma mia Molto Molto Paura Paura No, Depay Cosa fai? Show Palla per Martial Un altro giovane consigliatissimo per la carriera Va Martial Va Martial Va Martial Rientra sul destro Rientra Palla e mezzo per Ibra Mamma mia Mamma mia Attenzione Siamo già al 33esimo Ogni tanto sparisce il sole È bella questa cosa del meteo Del tempo più o meno dinamico Diciamo Cerca di aprire gli spazi Fa molto molto bene Come dicevo Bed La s'allunga Martial Martial Palla in avanti Ibra Ibra No Porcaccia la miseriaccia Se passava quel pallone Bed È rifregato Ok Ah no Punizione Dai È venduto Bed te lo sei comprato Te lo sei comprato Mi spiace Ma c'è Di Bala L'hai schierato? Attenzione Zonatiro 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 tira Eh di precisione Ha provato Furbo Furbo sa che il tiro di precisione Ha una percentuale più alta di entrare rispetto al classico tiro di potenza Ovviamente dipende da chi lo fa No Pogba Porca vacca Fa un pressing Pazzesco Ah che cavolo Mamma mia Eh che cavolo Mamma mia Difesa fortunatamente sto messo bene Ma mi sa che in Manchester non lo prendo più Attenzione attenzione Palla dentro per Di Bala Si salva Prova ad entrare in tutti i modi in aria Pogba Pallone in avanti per Ibra 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 Palo Palo No Ma che cazzo Crete Paul Pogba Paul Pogba 2 a 0 Porca miseria Ha avuto un culo così che la palla non è entrata Ma poi gliela tira addosso Mata Ma che cacchio fai Il gol dell'ex Paul Il polpo Paul Pogba Grandissimo Grandissimo 2 a 0 Molto cinico Nel calcio serve molto essere cinici Regola del vantaggio No punizione per me No Ma perché Se ce l'aveva Se ce l'aveva la Ju Gli poteva dare la regola del vantaggio Attenzione E accorcia Accorcia le distanze E' Alessandro Incredibile Subito risposta di Bed Che di prepotenza Si riporta Con uno svantaggio Di solo un gol Si riprende Ibra Mata Paul Pogba Autore del 2 a 1 Bellissima partita Devo dire Show Palla per vie centrale Paul Pogba Colpo di tacco Per entrare Per entrare In mezzo a quei due Chi cavolo erano Ha la difesa altissima In Manchester United Per questo Non lo prenderò mai più Io gioco con le difese Un po' più basse Giusto a metà Per fare Fuori il gioco E E' matto Oh punizione Punizione No Ma che cacchio però Pjanic Miraland Pjanic Palla dietro Oh che affare i pirla Lì davanti alla porta Che non ci vuol nulla Mata Memphis Memphis te pai Ibra Eeeh Spacchiamo Ibra Come avete usato A battere Ibra Ok dai ragazzi Paul Pogba Palla dentro Mamma mia Mamma mia Mamma mia Che fortuna Bed ovviamente Ha la miglior difesa Del mondo Praticamente Con Bonucci Chiellini Mi manda devo dire Ottimamente a vuoto Paul Pogba Cavolo fai Martial Ibra Eeeh Che cavolo Come chiudono Mamma mia Come chiudono Quei due centrali Lì Palla dietro Palla dietro al portiere Palla dietro Ikea Grandissima palla Eeeh Che cavolo Mamma mia Che so duri Questi della Juve Vai Pogba Paul Paul Pogba Paul Pogba In aria Paul Pogba Paul Pogba Riesce ad entrare Paul Pogba Mamma mia Miracolo Di San Gigi Che Miracolo Ragazzi Un miracolo Palla in mezzo Colpo di testa Mamma mia Dai dai Oh c'ho C'è contropiedi Mamma mia E Paul Il polpo Paul 3 a 1 3 a 1 Paul Pogba 3 a 1 Al settantesimo Non dico Che ha chiuso il match Però ragazzi Stiamo lì Piano Piano Andiamo cauti Andiamo cauti Bello Questo è un bel gol Nato Frutto di un errore Di bad Però devo dire Questi sono errori Che purtroppo Li paghi caro Gran numero Di bad Attenzione Qua ibra Tutto solo Ibra Ne salta uno Ibra in velocità Ibra in velocità Ibra supremacy Qui siamo saliti Troppo Troppi Giocatori E troppo in fretta Ottimo intervento Di persino No 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 Che la paghi cara No Che la paghi cara Vai De Gea Ibra Dai che si riprende Paul Pogba Herrera Non so che cacchio sia questo Paul Pogba Palla dentro per Ibra 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 Colpo sotto Pogba Ma cosa ti sei mangiato Cosa ti sei mangiato Porco cacchio Cosa si è mangiato Iguain Parla ancora per Qua Qua Asamo Eh qua Bede Che cappero fai però Pure tu Ti fai i giochietti qua E che cavolo Ok dai si riparte in contropiede Ancora Pogba Il pallone per Ibra Ibra prova a nascondere la palla E qua sbaglia Anch'io Parlo sai Per Bede E poi No 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 Contropiede No Oh mamma mia Mamma mia Ripeto Come ho detto già l'altra volta Se vedete dei rallentamenti Non dipende da me purtroppo Perché avendo la fibra Non mi lagga Mai Martial Ma che cappero fai Martial Attenzione Rischia tantissimo La Juve Novantesimo Novantesimo minuto Quasi finita Quasi finita Grandissima apertura Sulla fascia destra Per Quadrato Chiuso Non quadrato E finisce qui Ed è finita 3 a 1 La seconda sfida Contro gli iscritti Che dire Una grandissima partita Risultato secondo me Un po' troppo penalizzante Per Bad Secondo me Un 2 o 1 Ci stava tranquillamente Perché il terzo gol Me l'ha regalato Diciamo Che dire ragazzi Sfido il prossimo Iscritto Santo Remix 2 Iscritti Zero Lasciate un mi piace Commentate Condividete Ci vediamo alla prossima sfida Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie a tutti.